Ciao Fabio, quanti anni hai? Otto Otto? Madonna mia, che voce! Allora subito subito cosa ci canti? Sapore di sole La sai chi la cantava questa sì? Sì Chi? Eh? Sai chi la cantava questa? No E chi è piaciuta questa canzone a te o alla mamma? Ok Facciamo un applauso E ora per un'interpretazione solo personale Bene, salutiamo Fabio Tentile con Sapore di sale Sapore di sale Sapore di sale Che hai sulla te Che hai sulla te Sapore di sale Ed è piaciuta questa canzone è piaciuta questa canzone Questa è piaciuta questa canzone E' piaciuta questa canzone Che hai sulla te o alla mamma? Quelli che si è piaciuta questa canzone Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.